Questa pandemia ci ha reso consapevoli che le infezioni animali possono diventare umane e che stanno aumentando perché sappiamo molto poco degli altri animali. Fino ad ora li abbiamo usati, modificati, trafficati, annientati, depredato il loro habitat. Ci siamo accorti ora che il loro mondo fragile è anche il nostro e che siamo animali anche noi, caduti dall'Olimpo. Torna Sabrina Giannini con una puntata speciale di Indovina chi viene a cena, sabato 27 febbraio alle 21.45 Rai 3